La sala Tripkovic è trasformata in una macelleria equina ed elevata con un grattacielo. Se ne è parlato stasera a Macete la trasmissione satirica in onda su Tele4 ogni mercoledì alle 19 in un'intervista con Donald Trump, reduce dalla sostanziale tenuta alle elezioni di midterm, alias Flavio Furlan, intervistato da Maxino. La seconda pista si chiama Tripkovic e fiamo una macelleria di carne e di cavallo. Dopo sora mettiamo tutto un grattacielo alto alto. Dove che porteremo dentro Mirella e ci avremo Mirellone, tutto il grattacielo, no? Il Mirellone mi pare una grande idea. Non è tutto. Nelle intenzioni del magnate presidente governatore, a Trieste potrebbero arrivare grandi gruppi stranieri pronti ad investire triestinizzando i propri brand. Quando Leila diventerà governatore del TLT, la gara degli altri progetti per caso per la nostra città? Madonna, qua dei progettoni che non ti posso dire, se dalle robe è incredibile. Noi vogliamo portare tutti i grandi marchi americani, robe, e farli diventare un po' più triestini, no? Ad esempio, non so, la Apple, Gabbè, la Apple. La Apple, però più triestina, non la Seppol. Fiamo una roba che si chiude qua, non la Seppol, sai di che bello. Gabbè, portarla a Pimuloni. Anche grandi marchi come Microsoft, Microsoft Windows, le località. Windows ci chiamerà le lastre. Microsoft lastre. Lastre, lastre ci chiamano. E i siti del commercio, tipo, non so, Amazon, ad esempio? Amazon scioleremo anche, portiamo qua, mettiamo qua nel Miralone, e metteremo però, vendi solo, Materazzi, sembrastra Amazon.